Cucinare dietetico. Ricetta pasta con gli asparagi e ricotta. Mangiare dietetico non è sempre facile quando si tratta soprattutto di primi. Un bel piatto di pasta è infatti ben condito e abbondante e è una tentazione difficilmente rinunciabile. Cucinare dietetico però non significa per forza di cose cucinare cose poco appetitose e in questo post ve ne diamo la dimostrazione. In questo periodo ad esempio è possibile trovare ottimi asparagi di stagione e perché non optare per un sano e gustoso primo piatto in accoppiata con la ricotta? Gli asparagi hanno un sapore che dà sull'amarognolo e la ricotta riesce a spezzarlo esaltandone allo stesso tempo il gusto. I due elementi si fondono bene dunque per un condimento che appare leggero e invitante. Vi lasciamo qui sotto la ricetta per preparare questo primo piatto e mi raccomando fateci sapere com'è andata. Ricetta per 4 persone Lavate gli asparagi con acqua tiepida, togliere la parte dura e le punte, quest'ultime tenetele però da parte. Tagliate a pezzi i gambi e lessateli per circa 10 minuti in acqua salata, aggiungete le punte e continuate la cottura per 8 minuti. Togliete a questo punto le punte, scolate i gambi e frullateli assieme alla ricotta con un pizzico di sale. Bollite ora la pasta, penne o rigatoni e scolatele al dente. Aggiungete il condimento e decorate il piatto con le punte degli asparagi. Potete spolverare a gusto personale un po' di grana. Ingredienti per 4 persone 300 g di pasta 600 g di asparagi 60 g di ricotta 20 g di parmigiano Sale e pepe Buon appetito!